Semestene e il suo territorio sono parte integrante della regione del Logudorum Eilogu, luogo di mezzo compreso tra l'altopiano di Campeda, le catene montuose del Margine Goceano, il Monte Acuto ed il Sassarese. Il piccolo centro abitato costituisce un vero e proprio gioiello per l'armonia delle proporzioni del costruito, di impronta chiaramente medievale, nella disposizione degli edifici raccolti intorno alla chiesa parrocchiale di San Giorgio, il cui primo impianto risale verosimilmente al XII secolo. Il paese si erge al centro della fertile valle solcata dal rio Saorla e Sacariasa, denunciando chiaramente la propria vocazione agricola, in un contesto ambientale suggestivamente bucolico. Particolarmente interessante la produzione di grano duro e leguminose. A poca distanza dal paese è situato uno dei monumenti architettonici più noti dell'intera Sardegna. Si tratta della chiesa romanica dedicata a San Nicolò di Trullas, dall'impianto di chiara derivazione pisana, ispirato ai prototipi delle chiese di Santa Maria del Regno di Ardara e del San Michele di Plaiano. La chiesa, documentata come già esistente nel 1114, quando fu donata all'Ordine Monastico dei Camaldolesi, consta di un edificio a navata unica, con abside e terminale, costruito con conci di pietra calcarea e di arenaria, inframezzati da inserzioni di blocchi scuri di materiale trachitico.